E posso chiederti proprio una cosa made in Italy che ti fa impazzire? I piedi Però questa lo sapevo, però posso condividere perché insomma non solo i piedi ma anche le calzature a volte Sì, piedi e calzature, annesse, certo Va bene, in quel senso lì, noi intendevamo quel senso lì ovviamente Certo, nel senso di calzature Ovvio Ciao Ciao a tutti amici di Rai